Ciao a tutti! Oggi insieme, con un video un po' velocizzato, andremo a creare degli stampini con la Purmold della Resin Pro. Questa è una gomma siliconica liquida che ha rapporto 1 a 1, quindi tanto componente di A quanto componente di B. Andremo a realizzare lo stampino di queste formine in taglio laser e se riuscirò, ma penso di sì, ci aggiungerò un pochino poco 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 di questo pigmento della Perlex che ho preso dalle bimbi, così magari gli diamo anche un leggero tono colorato. Ma adesso parte il video, sarà appunto velocizzato, ma intanto i passaggi sono semplicissimi, quindi non c'è bisogno che parlo durante il video. Iniziamo! Prima di tutto peso, 90 grammi del componente A. Qua vedrete segnato 60, ma in realtà arrivo a pesarne in totale 90 del componente A. Dopodiché ne peso ovviamente lo stesso quantitativo del componente B, quindi altri 90 grammi del componente B, anche se qua ne vedete 60. A questo punto aggiungo un pizzichino del colorante Perlex per dargli un tocco di colore e inizio a mischiare bene 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 tutto il prodotto per almeno 2-3 minuti circa. In realtà aggiungo ancora un pezzettino di colore così, come vedete, diventa molto più intenso e continuo a mischiare. A questo punto sono pronta a colare la gomma all'interno dello stampo. Quindi la colo bene bene che vada da tutte le parti, che sia all'incirca un centimetro di spessore più o meno. Scuoto un po' lo stampo e vi faccio vedere appunto che è da tutte le parti. E' tutto pronto? Volevo fare appunto 200 ml di prodotto, alla fine ne ho fatti 180, quindi 90 e 90, perché non mi stavano nel bicchiere. Non sono tutti qua ovviamente perché erano tantissimi, pensavo che sarebbero stati pochi, invece ho sbagliato totalmente le misure e quindi ho altri stampi in giro, però non sto qua a farvi rivedere, intanto l'importante è che se ne veda uno. Qua c'è segnato, ve lo faccio vedere, colare la gomma nello stampo, estrai lo stampo dopo 4 ore, ben sole, 4 ore. Allora adesso è pieno pomeriggio, quindi io non so se riesco a farvi il video tra 4 ore, perché sarà sera. Se riesco a farvi il video tra 4 ore, bene, se no ve lo faccio direttamente domani. In ogni caso, tra 4 ore io aprirò gli altri stampi che ho fatto, quindi saprò comunque se è andata bene o meno. Come vedete c'è questo pezzico di colore che si intravede. E niente, quindi adesso aspettiamo le 4 ore e poi vediamo il risultato. Al momento ci sono un po' di bolle, ma è normale, mischiandolo ci sono. L'importante è che nella parte sotto, dove poi ci sarà la forma dello stampino, non si siano formate. Vedremo tutto tra 4 ore, quindi aspettiamo e vediamo. Allora, sono passate in realtà 24 ore, perché dopo 4 ore lo stampo, la gomma risultava ancora liquida, ma non troppo, però sì, è appiccicosa. È ancora un po' appiccicosa anche adesso, sinceramente. Però, se sentite rumore è solo mio marito che entra in casa, non fateci caso, mi mette anche un po' più di luce almeno. Però adesso è sformabile, infatti gli altri stampini li ho già sformati tutti. Quindi, non stiamo qua a cacciarare troppo, andiamo a vedere com'è rimasto. Allora, c'è tutto il lavorone qua di... Mi si è anche distrutto tutto lo smalto in questi giorni per di più. Poi, andiamo avanti. Qui ci sono almeno tre strati di scotch. Quindi ci metto un attimino... Oh, che bello il colore! Mi piace un sacco. Infatti adesso ho intenzione di fare altri stampi. Stavolta, però, li faccio sul viola. Mi metto sempre il perlex, ma stavolta appunto al colore viola. Allora, mannaggia la teose. Qua c'è l'ultimo pezzo di scotch, ma non è niente di che. Andiamo a premere. Sì, se non mi si distrugge l'unghia, forse è meglio. Allora, premiamo. Eccolo qui. Ta 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 ta! Oh, c'è ancora un pezzo di scotch. Allora. Eccolo qua, lo stampino! Andiamo subito a vedere... Com'è rimasto. Vabbè, questa è l'immagine. Questo qua. Si tolgono facilmente. Allora, qua è passato ovunque, sì. Ta 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 ta! Qui c'è ancora dello scotch. Eccolo! Ma, scotch, vai via! Allora. Farfallina. Fallina da football. Ingeyang con il cagnolino e la mano. Ed ecco qua la nota musicale, sì, la nota musicale, la chiave di violino, col cuoricino. Perfetto! È perfetto! E poi guardate che bella parte l'effetto trasparente che è veramente fighissimo. La gomma siliconica non è troppo morbida, né troppo dura. Questo è lo spessore perfetto per fare gli stampi, così rimane bello solido, ma si sforma facilmente. Bellissimo! Ha anche l'effetto perlex, perché è stupendo questo colorino perlato. Mi piace veramente un sacco! Allora, la gomma al tatto risulta tipo appiccicosa, ma credo che sia così, perché è un classico comunque avere l'impressione dell'appiccicume nelle gomme siliconiche. Mi piace tantissimo! È venuto proprio proprio bene! Sono troppo contenta! Quindi, strapromossa! D'inverno, col freddo, comunque ci sta che magari ci metta un po' di più, anche se qua è segnalato 4 ore. Devo poi provare d'estate, col caldo, vedere se effettivamente in 4 ore basta. Io posso consigliarvi di farlo o la sera e lasciarlo tutta la notte, tutto il giorno, oppure, come ho fatto io, lo fate nel pomeriggio e tranquillamente lo aprite, lo sformate il giorno dopo. Io andrò poi a lavarli, come mi è stato consigliato anche da Moon Rose. In ogni caso, non utilizzate mai lo stampo entro 24-48 ore da quando l'avete usato, perché c'è comunque la possibilità che ci siano sopra ancora delle patine che vi fanno reagire mare la resina. Quindi aspettate comunque un paio di giorni prima di usarlo e io, tra un paio di giorni, comunque andrò a fargli il lavaggio con acqua tiepida e sapone, semplicemente. Così si vanno a rimuovere tutte le patine che potrebbero essersi formate. Bellissimo! Sono contenta e soddisfatta, mi piace un sacco questa gomma, quindi penso proprio che appena la finirò ne comprerò dell'altra. Io, come ho detto, gli stampi li faccio solo ed esclusivamente per me stessa, non vendo i miei stampini perché non è il mio lavoro, non è una cosa che mi interessa fare. Ringrazio la Resin Pro per avermi dato la possibilità di provare questa gomma siliconica, anche perché grazie a questa prova io ho potuto farmi finalmente gli stampini delle mie formine in taglio laser, che hanno anche loro la nuvoletta, che ho fatto la nuvoletta proprio solo in realtà per distinguere da stampi in vendita, queste appunto con la nuvoletta non lo sono. E niente, presto ci saranno gli altri due video riguardanti la resina liquidissima e la resina one to one. Molto probabilmente in uno dei due, in entrambi, useremo anche questo stampino, così utilizziamo in totale tutti i prodotti Resin Pro. Lasciatemi un commento se avete già usato questa gomma, se la conoscete, cosa ne pensate, se vi piace anche il data della Perlex, se vi piace il risultato e tutto quanto. Ringrazio tantissimo la Resin Pro e noi ci vediamo poi con i prossimi video. Iscrivetevi al canale, mi raccomando! Ciao! Grazie a tutti!